Il nostro consueto schema sapete come funziona, quindi vi dico che vi arriveranno le slide, vi dico che non serve prendere appunti e che alla fine ci sarà il momento delle domande che poi gestiremo insieme ad Alberto. Come abbiamo detto, questo momento ci serve ad essere sempre più preparati per meglio prenderci cura delle persone, prima di tutto per rendere effettivo il loro accesso ai diritti, lo dirò nel corso della presentazione, ma ci sono tante persone che sono rimaste escluse dalle misure perché magari hanno semplicemente compilato male la domanda, non hanno capito la richiesta e molte storie si sono chiuse così. Cioè c'era il bonus, hanno provato, hanno tentato, si sono mossi male e non l'hanno raggiunto. Ovviamente sapete che tutto quello che diciamo è compreso nel manuale dei diritti che è aggiornato al momento a tutte le ultime normative uscite. E oggi io vi parlo sempre, come al solito, dell'area di mia competenza che è quella delle misure di sostegno al reddito e liquidità. Vi dico subito che non ci sono moltissime cose da dire e magari però cercheremo di capire bene quelle di cui dobbiamo parlare. Uno dei temi rimasti aperti da tutte le misure straordinarie Covid dell'anno scorso è quello dei finanziamenti agevolati, cioè erogati dalle banche con garanzia statale, il famoso decreto liquidità. Doveva, doveva terminare la possibilità delle banche di concedere questi finanziamenti al 31 dicembre. Sono stati prorogati al 30 giugno 2021, quindi ancora oggi chi ha un'impresa, perché si tratta di questo, quindi un'attività di lavoro, anche lavoro autonomo, una ditta individuale, può chiedere alla banca questi finanziamenti con garanzia statale con un minimo di 25 mila euro, con un ma, non è esente dal produrre documentazione che dimostra la propria solvibilità alla persona, cioè non è che la banca, col fatto che c'è la garanzia statale, può concedere questo finanziamento senza giudizio, senza criterio a persone non in grado di rimborsarlo, perché sarebbe chiaramente temerario e un approfittamento del fondo statale, ma soprattutto la banca non è obbligata a concederlo, quindi voi avrete sentito persone che hanno tentato e non si sono riuscite, comunque quello che si può dire è che fino al 30 giugno si può tentare ancora. Ricordiamo che per tutti i problemi di indebitamento, sovraindebitamento, che magari non sono strettamente legati al covid, ma col covid si sono accentuati, soprattutto per magari l'impossibilità di pagare qualche rata nel corso dell'anno 2020, si può ricorrere alla Fondazione Salus Popoli Romani, che al di là della possibilità di un intervento di finanziamento, che chiaramente poi prevede dalla persona la capacità di rimborso, può soprattutto dare assistenza, consiglio, aiutare a inquadrare la situazione, mettere nel giusto ordine di priorità i problemi e affrontarli in modo razionale, quindi facendo appunto un'azione di assistenza, ma anche di accompagnamento e di educazione finanziaria, perché non ha senso risolvere a una famiglia, a una persona un problema finanziario e poi lasciarla lì senza prendersene cura anche dopo, perché poi pagare le rate chiaramente comporta tante difficoltà. e soprattutto anche di educazione finanziaria, perché molto spesso riscontriamo che le situazioni in cui si incastrano le persone dipendono non da una scarsa conoscenza e comprensione degli strumenti che vanno a utilizzare, per esempio le trappole delle carte revolving, ma a volte anche una difficoltà di gestione delle proprie risorse, incapacità di programmazione, incapacità di fare scelte razionali, magari anche per altre fragilità personali o familiari. Quindi non è la prima volta che lo diciamo, la Fondazione Salus Populi Romani è a disposizione, ha un sito, potete cercarlo e trovate tutti i contatti. Detto questo, sempre in tema di finanziamenti, sappiamo che la sospensione del pagamento delle rate di mutui aveva interessato molti, che poi gli accordi con le banche e le società finanziarie avevano anche esteso ai prestiti personali. Ora anche qui c'è stata una proroga fino al 30 giugno 2021, non entro nel dettaglio di tempi scadenze, però sappiamo che dichiarare di aver perso il lavoro o avere comunque un reddito ridotto a causa del Covid dà la possibilità di chiedere alla propria banca o società finanziaria di riferimento la sospensione del pagamento delle rate. Si pagano solo gli interessi, ma di solito sono veramente una decina di euro su ogni rata. E per muoversi appropriatamente ci si può informare, attualmente che l'accesso agli sportelli bancari è un po' più difficoltoso, su appuntamento, sui siti di tutte le principali banche e società finanziarie ci sono le informazioni per chiedere la sospensione Covid. Andando avanti, un'altra sospensione o differimento delle scadenze, che è ancora in atto perché l'anno scorso c'erano state varie sospensioni di tasse eccetera, per ora non è stato deciso niente per le tasse del 2021, però ci sono e interessano molti le sospensioni dei pagamenti dovuti all'agenzia entrata e riscossione, quindi l'ex Equitalia. Distinguiamo le rottamazioni, quindi le famose rottamazioni U1, BIS, Terra, Saldo e Stralcio, che avevano delle rate in scadenza tra il 2020 e il 28 febbraio 2021, che avrebbero dovuto essere pagate tutte entro il primo marzo. Ora, proprio il giorno stesso che abbiamo fatto il primo incontro la scorsa settimana, era stato detto che il MEF aveva annunciato un provvedimento di riferimento del termine del primo marzo, cioè già scaduto, e questo annuncio persiste ancora, si trova bene nella discussione, è un po' incredibile che dopo 18 giorni dal termine scaduto, ancora non è uscito il provvedimento di riferimento, comunque è stata fatta una dichiarazione pubblica, quindi ci si può contare, per cui chiunque non abbia rate di rottamazioni, non pagate per cui era in attesa, può attendere, e vedremo il termine che verrà fissato, perché chiaramente speriamo non sia imminente, se fosse il 31 marzo sarebbe una cosa da poco, insomma. Questa lentezza, nell'emanare i decreti, la stiamo vedendo da parte del nuovo governo, non sappiamo il motivo, come una caratteristica che si sta affermando, purtroppo, per cui anche altri provvedimenti arrivano molto a rilento. Per quanto riguarda le cartelle esattoriali, invece, tutti i pagamenti che sono scaduti tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021, possono essere validamente effettuati entro il 31 marzo 2021. Di che cartelle parliamo? Delle cartelle notificate prima dell'8 marzo 2020, perché poi c'è stata la sospensione delle notifiche delle cartelle. Infatti, non sono più state notificate cartelle dopo l'8 marzo 2020. Questa sospensione era in vigore fino al 28 febbraio scorso. Anche qui è stata annunciata probabilmente un'ulteriore proroga, che ancora però non è legge. In effetti non ci sono notizie di notifiche avvenute in queste due settimane e staremo a vedere. Però è importante che quando c'è la persona che ha queste spendenze, l'aiutiamo a verificare bene, cioè di non fare sciocchezze, né di precipitarsi a pagare una cosa che poteva essere differita, né ovviamente di trascurare una scadenza che invece va rispettata, perché il non rispettare le scadenze ha soprattutto conseguenze economiche ma abbastanza pesanti, perché poi le more e le penalità galoppano. Ecco, vado avanti. Parliamo della cassa integrazione. L'altra misura che ancora ti ho spiegato come funziona, che insomma era un ristoro limitato, specialmente per chi aveva contratti part-time o retribuzioni molto alte, si trovava, o comunque più alte del minimo, si trovava penalizzato. Comunque, la legge di bilancio 2021, quindi a fine anno 2020, aveva stabilito 12 settimane ulteriori di cassa integrazione dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 marzo. Alcuni fondi particolari, la CIG in deroga, potevano godere queste 12 settimane addirittura fino al 30 giugno. Ora, in realtà, anche alla luce dei recentissimi provvedimenti che hanno messo quasi tutti in zona rossa o arancione, dobbiamo supporre che le 12 settimane sono quasi finite perché finiscono il 27 marzo, se non sbaglio. E quindi anche per questo è stato annunciato un decreto che darà ulteriori settimane, però ancora non ce ne traccia. Di queste 12 settimane, quindi dei primi tre mesi del 2021, possono beneficiare tutti i lavoratori assunti fino al 4 gennaio 2021, non primo gennaio perché il primo era festa e poi c'era un sabato e una domenica. È una domanda che si pone di frequente. Io non ero dipendente all'8 marzo del 2020, sono stato assunto dopo. Bene, se sei stato assunto entro il 4 gennaio 2021, puoi percepire la cassa integrazione. Sempre che sei stato assunto, dico per dire, il 15 febbraio per un'attività che aveva riaperto e che ora è stata chiusa dalla zona rossa, la cassa integrazione a normativa attuale non ti spetta. Poi vediamo che cosa succederà. Un'altra cosa su cui dovrà essere presa una decisione, che aveva nato una norma, è il divieto dei licenziamenti che finora è stabilito al 31 marzo 2021 e che riguarda solo le aziende che utilizzano la cassa integrazione. Se un'azienda non sta utilizzando la cassa integrazione, può licenziare. Se un'azienda chiude uno stabilimento, una sede, può licenziare. Se un'azienda chiude completamente perché cessa di licenziare. A questo proposito vi dico anche che oggi voglio darvi un flash perché lo scenario l'abbiamo già trattato la volta scorsa, ma il giorno dopo del precedente incontro l'Inps ha pubblicato la nota sul mercato del lavoro nel quarto trimestre 2020 che ci dà proprio, ve lo dico brevemente, la dimensione della situazione. Cioè nell'anno 2020 si sono perse il 9,3% di unità di lavoro di dipendenti e il 12,8% di unità di lavoro degli, le chiamano indipendenti, categorie in cui mettono un po' tutti quelli che lavorano con un contratto precario, magari di collaborazione o con partita IVA. e in particolare nel quarto trimestre le perdite di posti di lavoro sono 383.000 dipendenti, 129.000 indipendenti. Il part-time involontario, cioè questa realtà specifica italiana in cui l'azienda ti assume part-time perché fa delle valutazioni di convenienza per ridurre l'impegno economico, magari chiedendoti di lavorare in quattro ore ma producendo come se ne lavorassi otto, e addirittura riguarda il 65% delle persone con contratto part-time. È una grossa stortura del nostro mercato del lavoro. Il tasso di inattività, cioè la percentuale delle persone tra i 15 e i 64 anni, che quindi sono la cosiddetta popolazione attiva, che non lavorano, è in media il 35,4% a fine 2020, di cui circa il 26% uomini e circa il 45% donne, dato che aumenta, questo l'abbiamo sempre detto, per le donne e per i giovani. Al sud addirittura le donne inattive sono il 59,3%. I giovani tra i 15 e i 24 anni inattivi sono il 6,4%, di cui circa il 71% uomini e il 82,5% donne. Quindi l'inattività dipende dall'età, più i giovani inattivi, dipende dal sesso, sono di più le donne inattive, dipende anche dal titolo di studio. Vedete che la percentuale di persone inattive è molto alta fra chi ha solo la licenza media, la metà, scende al 30% per chi ha un diploma di scuola superiore, scende al 17% per chi ha una laurea. e il totale, per dare una dimensione, che deriva da tutto questo, di persone che non cercano lavoro e non studiano, pur essendo in età attiva, sono 10 milioni e mezzo, di cui 3 milioni e 600 mila uomini e 6 milioni e 850 mila donne. Questi dati che cosa ci dicono? C'è la CIG, è certo, per chi un lavoro ce l'aveva, c'è la NASPI, per la disoccupazione di un lavoro l'aveva l'ha perso. Cosa manca? Mancano le politiche attive per il lavoro. Non bastano gli incentivi e non bastano gli ammortizzatori sociali. Queste persone hanno bisogno di lavorare, dovrebbero lavorare in un'economia sana, perché questo contribuirebbe appunto al bene comune e al benessere di tutti. Solo sempre a livello di flash ci sono i grafici che poi ci rendono a livello visivo bene il concetto che stavamo vedendo. Gli occupati per genere, cioè uomini e donne, vedete quest'andamento dagli anni 2015 a 2020, vedete che le variazioni degli occupati seguono sempre la regola del sesso, soprattutto nel 2020, in cui le perdite di unità di lavoro, specialmente nei primi due, nel secondo e terzo trimestre, sono state drammatiche per tutti, vedete questo grosso picco verso il basso, ma soprattutto per le donne, così come per territorio, è evidente la grossa flessione che c'è stata nel mezzogiorno, così come per classi di età, quello che vi dicevo prima, grandi perdite di occupazione nella fascia 15-34 anni nel 2020, così come anche questa situazione degli inattivi che non cercano lavoro. È una realtà molto particolare, vedete quanto sono aumentati nel 2020, cioè le persone che non hanno un lavoro, non lo cercano e non studiano. Tutto questo ci dice sostanzialmente la cosa che già sappiamo, che le disuguaglianze stanno aumentando, i divari territoriali di genere e di età sono aumentati, la forbice che si allarga, come sempre avviene quando c'è uno shock in un sistema economico. Bene, oltre alle indennità quindi di cassa integrazione per i lavoratori dipendenti, questo è stato l'anno di tutti i bonus, i famosi bonus da 600 barra 1000 euro che hanno riguardato tutte queste categorie che sono scritte qua, i collaboratori sportivi, gli ha pagati il CONI e anche le guide turistiche, le ha pagate il Ministero per i beni d'attività culturali e turistiche, tutti gli altri li ha pagati l'INPS, sostanzialmente entro novembre 2020 sono state liquidate le ultime categorie più particolari che erano state aggiunte come per esempio fra gli ultimi pescatori autonomi e grosso modo anche chi aveva fatto ricorso non era stato pagato qui c'è stata una gestione della comunicazione e anche della lavorazione delle pratiche come sempre molto burocratica da parte dell'INPS in cui la persona non è stata abituata ad accedere aiutata ad accedere perché l'amministrazione interpreta il proprio compito come semplicemente se la tua richiesta ha dei problemi io la boccio e veramente più del 90% delle richieste di riesame sono rimaste inascoltate pure se molte erano molto molto fondate io personalmente ne ho viste altre sostanzialmente non c'è nulla da fare perché in pura teoria si potrebbe instaurare o un ricorso amministrativo gerarchico contro la stessa INPS inutile perché è sempre l'INPS che deve esaminarlo o un ricorso amministrativo che probabilmente porterebbe a buoni esiti ma è completamente antieconomico fare un ricorso amministrativo per un bonus da 600 euro quindi in questo caso chi diciamo è stato più sfortunato non riesce ad accedere non è riuscito ad accedere al proprio diritto questo ve lo dico perché se intercettate storie di persone che si lamentano siate consapevoli che probabilmente veramente è andata come dicono loro e sono state vittime di un'ingiustizia ma anche che non c'è niente da fare l'INPS al 21 gennaio 2021 gli ultimi dati che ha diffuso danno semplicemente ecco una dimensione di tutte queste misure che sono state distribuite al di là del modo lento e burocratico di lavorare comunque gli ammortizzatori sociali sono stati erogati per 33 miliardi e mezzo di euro in dieci mesi a circa 15 milioni di beneficiari la cassa integrazione ha raggiunto record inimmaginabili mai toccati autorizzando oltre 4 miliardi di ore erogando oltre 19 miliardi di euro i beneficiari più o meno la metà hanno avuto il pagamento anticipato dall'azienda e questo ovviamente è stato alla scadenza consueta dello stipendio quelli con pagamento diretto dell'INPS diciamo che se dal cielo sono stati aiutati più o meno l'hanno ricevuto dopo due o tre mesi quindi la cassa integrazione di aprile 2020 l'hanno ricevuta tra giugno e luglio ci sono lungaggini dei sistemi che adesso non ci mettiamo ad addentrare ci sono grandi promesse di trovare un sistema più efficiente e automatizzato di cui però chi parla a livello politico sicuramente ha la buona intenzione di raggiungere questo risultato però temo che non sappia di che cosa sta parlando perché invece chi ha lavorato nel campo sa bene come funzionano le cose e non si può immaginare che un'amministrazione comunque organizzata e strutturata in un certo modo improvvisamente diventi un'altra e le altre misure covid-19 i bonus appunto da 500 600 e 1000 euro 4 milioni e 200 mila beneficiari 1 milione e 300 mila domande di bonus babysitting che sono stati concessi ai genitori nel periodo in cui le scuole per materne dell'infanzia elementari sono state chiuse sono stati rinnovati anche ora per l'attuale chiusura nelle zone rosse 250 mila estensioni di congeti parentali legge 104 sempre per gli stessi motivi e anche il 215 mila bonus erogati a lavoratori domestici categoria dove purtroppo sappiamo che c'è un'alta incidenza del lavoro nero e quindi probabilmente avrebbero dovuto essere forse più di 600 mila ma la dignità del lavoratore in nero viene gravemente calpestata perché non ha diritti infine anche ci ricorda l'Inps e ne parleremo più avanti che nel 2020 un milione e mezzo di nuove familiari e quindi circa 3 milioni e 100 mila cittadini hanno potuto beneficiare della nuova misura del reddito di cittadinanza il reddito di cittadinanza che sappiamo nasce nel 2009 con una misura di contrasto alla proprietà e si compone di due quote spese di sussistenza massimo 6 mila euro anni 500 euro al mese con anche la possibilità di aumentare nel caso della presenza di membri con disabilità una quota per affitto muto l'ise inferiore a 9.360 euro anni salve eccezioni sempre a seconda della composizione del nuovo familiare durata di 18 mesi a ottobre 2020 per la prima volta chi ne aveva beneficiato e ne aveva ancora requisiti ha dovuto presentare le domande di rinnovo appunto perché era scaduto questo è importante saperlo l'abbiamo detto a suo tempo l'Inps non avvisa semplicemente uno si trova che dal mese X non ha il pagamento la norma prevede che ci sia un mese di sosta ma quando sai che scade devi seguire la cosa e andare subito a ripresentare la domanda tra l'altro anche per chi ha il pagamento in corso a gennaio 2021 ha dovuto presentare il nuovo ISE e anche lì non c'era un automatismo per cui ti viene richiesto il sistema va a vedere se tu hai un ISE valido nel momento che tu non hai un ISE valido perché quello 2020 è scaduto ti blocca il pagamento il rimedio è semplicemente andare al patronato al CAF oppure col nostro aiuto farselo da soli sempre col famoso speed accedendo sul sito dell'Inps perché si può richiedere in autonomia e una volta che l'Inps è valido in automatico il pagamento viene ripristinato vado avanti poi tanto potrete fare domande l'ultima pagina è stata quella dei contributi a fonde perduto il famoso decreto di agosto e che ha dato la prima grande platea di contributi e poi i decreti di storie fra ottobre e novembre il decreto rilancio quindi ad agosto aveva consentito il pagamento di questi primi contributi che lo ricordo sono parametrati sulla diminuzione del fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019 di almeno il 33% parametro un po' limitato che può dare luogo a esclusioni o inclusioni abbastanza casuali perché uno magari in quel mese ha avuto dei fatturati particolari e nel ottobre 2020 è stato pagato in automatico a tutti coloro che già avevano ricevuto il primo ristoro il primo contributo a fondo perduto le cui attività erano state limitate dai dpcm appunto di ottobre e novembre quindi c'era una tabella dei codici di attività e l'agenzia delle entrate l'ha pagato in automatico doveva fare domanda solo chi aveva aperto dopo marzo 2020 e aveva l'attività in essere dal 25 ottobre 2020 non 2019 come scritto nella slide c'è un refuso che come e però appunto chi ha fatto domanda entro il 15 gennaio grosso modo da quello che sappiamo sono stati effettuati tutti i pagamenti che erano di mille euro minimo per persone fisiche e duemila euro per società identi i giornali parlano insistentemente di questo tema per cui di continuo ci sono persone che dicono è uscito il nuovo ristoro voglio fare domanda no non è uscito il nuovo ristoro qui il decreto è in clamoroso ritardo perché a gennaio il precedente governo aveva promesso poi sono cominciate le difficoltà siamo a marzo e ancora non se ne parla è evidente che chi è in difficoltà ha un estremo bisogno mentre magari non protesta chi non ha tutta questa difficoltà come sempre la mancanza degli ammortizzatori sociali accentua le disuguaglianze per cui chi è più penalizzato è proprio chi avrebbe più bisogno speriamo che arrivi prima possibile anche qui sono stati previsti meravigliosi automatismi e tempi veloci speriamo bene detto questo io per oggi ho finito vi avevo promesso che sarei stato breve come sempre il riferimento è il manuale dei diritti noi siamo sempre disponibili a continuare assistervi adesso ascolteremo le domande e vi do anche un annuncio uno spoiler che prossimamente stiamo già mettendo in cantiere una sezione pensioni del manuale operativo che non sarà un manuale completo perché se no dovremmo scrivere un'enciclopedia però ci siamo resi conto che c'è un'esigenza di capire meglio le situazioni delle persone che a volte possono essere intricate quindi per questo vi diciamo di restare sintonizzati c'è sempre la mail coordinamento covid chiocciolacaritasroma punto it per proposte per proposte critiche suggerimenti e soprattutto richieste dichiarimenti che noi accogliamo sempre con piacere è stata molto utilizzata finora quindi grazie per l'attenzione della pazienza siamo alla fine io interrompo la condivisione e non so se ci vediamo ciao